Amici di Partiteva24, bentrovati. Oggi parliamo di un argomento di attualità. Posso aprire con regime forfettario se sono già dipendente o pensionato? Andiamo subito a capire queste due casistiche. Spesso ci chiedono, sia lavoratori dipendenti che pensionati, che hanno la voglia e il desiderio di mettersi in proprio, se possono soffrire del regime fiscale agevolato o il cosiddetto regime forfettario. La risposta è molto semplice. Se si è già dipendenti oppure pensionati e si vuole aprire una partita IVA, bisogna verificare se effettivamente sono stati percepiti più o meno di 30.000 euro lordi annui con il reddito dal lavoro dipendente o dalla pensione. Facciamo subito un esempio. Se c'è un pensionato o un lavoratore dipendente che percepisce ogni anno meno di 30.000 euro lordi, può benissimo aprire una partita IVA e usufruire del regime forfettario. Se invece dalla certificazione unica che ogni anno vi percepite e vi consegnano vedete che effettivamente il reddito anno lordo è superiore ai 30.000 euro lordi, è sì possibile aprire una partita IVA, ma non sarà purtroppo accessibile il regime forfettario.